Grazie a tutti Grazie per essere qui Grazie anche a Fabio Che insomma io ho un po' illuminato il pomeriggio Grande DJ di Radio Capita Grazie per essere qui, grazie a tutti Allora noi lasciamo perdere, ci conosciamo da un anno Meglio che non diciamo da quanto tempo praticamente Siamo qui questa sera perché questo è il nuovo disco pop-up Anticipato dal primo singolo che è Luca Lo stesso E tra l'altro non so se lo sapete voi ma è la canzone più trasmessa delle radio italiane E quindi qua ci sarebbe molto importante Sì devo dire che è stata una bella sorpresa perché insomma Quando abbiamo finito il disco Ma già quando l'abbiamo registrata io sempre ho subito sentito che questa è una canzone molto importante Ma intanto perché nel testo c'è una sorta di commozione L'ho scritta commuovendomi pensando insomma al fatto che dentro di noi ci può essere Forse noi dobbiamo anche contribuire ad alimentarlo sempre al ragazzo che eravamo O le ragazze che eravamo E quindi sentivo che era forte ma poi scoprire che riesce a ottenere questa grande forza di comunicazione Lo scopri solo quando arriva le radio, quando arriva la gente Quindi sono davvero molto emozionato e contento Allora Grazie mille Grazie mille